Il Comune di Monte Argentario e l'ente Palio Marinaro, in collaborazione con TV9, presentano Il Palio Marinaro dell'Argentario, tra storia e leggenda. Sabato 15 agosto, in prima serata, uno straordinario racconto a cura di Paolo Mastracca. La storia, le voci dei protagonisti e le emozioni di un grandissimo evento del nostro territorio. Sabato 15 agosto, in prima serata, su TV9. Grazie per la visione!